Alessandro Delinoci, assessore al Comune di Lecce, all'innovazione, alle smart city, cosa può fare la pubblica amministrazione per facilitare il rapporto e la collaborazione con le start-up? Deve creare un dialogo, deve andare nella stessa direzione, in questi anni non sempre la pubblica amministrazione è andata alla stessa velocità, alla stessa direzione del mondo innovativo, ancora di più delle start-up. Come si crea? Attraverso un ambiente fertile, quindi creando delle strutture che possano ospitare queste start-up, cercando di dialogare per informare di quali possono essere i possibili servizi che una start-up può trovare un'opportunità di mercato, ma soprattutto creando connettività e creando una rete nuova e fornendo i dati, dati utili, dati che servono e che possono essere riutilizzati e che possono generare una nuova economia.